buongiorno stamattina buongiorno lo dà anche lui perché il signorino sta dalle sette e mezza che voleva scendere quindi ha iniziato a dare la morte a mia madre ha fatto un salto da questa ringhiera d'oro qui non si è fatto niente che ce ne facciamo del cavallo al lato pegaso abbiamo lui allora bella gente io sono rimasto fino all'una e 20 non mi ricordo comunque molto tardi al computer perché stavo stamattina il collo va meglio perché stavo provando a capire come fare una diretta multipla su più social nello stesso momento ho passato un'ora e mezza quasi due a cervellarmi fra vari tutorial online e la cosa non è servita un emerito caspio perché in pratica aspettate un attimo lo appoggio qui così sistema perché in pratica ognuno di loro dava un consiglio diverso e ognuno di questi consigli non erano praticabili per me uno perché c'aveva invece del pc il mac un altro invece del non guardate di là perché tanto è roba che devo mettermi quindi è roba per che indosso per il cane invece del pc del del x split che uso io usava un altro programma e non sono riuscito a trovare il nome quindi anche volendolo scaricare non ci sono riuscito ho visto che c'era la possibilità di condividere la connessione di periscope la diretta di periscope quindi stavo tentando questo solo che ho tentato più volte un paio di volte con un sito internet è riuscito anche a connettersi però non si vedeva niente con l'x split stessa cosa in pratica ho buttato la giornata presso a lui tutto questo per dire che siccome si sta avvicinando la stagione e che quindi è anche più facile rimanere solo in casa la mattina non che ora non lo sia ma in questo momento mio fratello lavoro e mia sorella lavora quindi in teoria la mattina sono libero però visto che si avvicinerà la stagione farà caldo e non avrò la benché minima intenzione di buttarmi in mezzo alla strada tranne se non la mattina presto per andare a correre anche perché in questa settimana invece di togliere ho messo un chilo stavo pensando di fare degli delle dirette delle dirette semplicemente chiacchierando queste dirette ovviamente volevo farle su più social in modo che questi canali con la loro rete mi dessero la possibilità di raggiungere più persone nello stesso momento non sono riuscito a capire come si fa una cosa del genere e quindi mi sa che o andrò di diretta su un canale per volta oppure farò in modo che il canale di predilizione per le dirette sia periscope perché è quello che si usa di norma però lì non ho seguaci perché si usa twitter e quasi nessuno di voi ha twitter per cui dovrò per forza di cose optare per facebook credo sia la scelta più pratica essendo un canale più pesante di contenuti di rete l'unica cosa è che ovviamente chi non ha facebook degli iscritti di youtube rimane appeso per questo volevo fare la diretta generale ma ancora non sono riuscito a capire come si fa quindi ora metto online inizio a caricare online il vlog di ieri fatto questo nel mentre gli faccio la copertina perché ieri appunto per provare questo non ho fatto la copertina perché ho iniziato a spezzettare e a tagliare a cucire anche il video di recenso inizierò una diretta su periscope mi farò qualche minuto lì e poi la ripeterò su facebook su youtube ancora no perché mi pare un po' inutile come cosa per il momento però poi chi lo sa anche perché è mattina quindi non siamo in periodo di vacanza non ho i numeri per poterla fare ancora e su youtube in grande stile e quindi vediamo un poco così a dopo allora la prima diretta non dico che è andata benissimo però non è andata neanche malissimo 39 persone hanno visto la diretta ovviamente non tutta però è stato divertente poi ho dovuto controllare il cane è venuta mia madre e ho dovuto bloccare tutto per cui fra un'ora la ricomincio nel frattempo ho fatto la copertina e per il vlog e ora sto aggiornando un poco di contatti su twitter di recenso e fra un'ora si ritenta chissà cosa ne esce devo essere ancora più sincero la seconda diretta steve io e me stesso l'orario è sbagliato completamente però io in questo momento sono solo a casa quindi vabbè visto che sono quasi le 11 mi metto a fare altro perché non posso buttare la giornata lui ormai ha preso possesso eccolo la ciao e sta a caccia di nuovo boom che ci tiene va bene mi metto a fare qualcos'altro dai ci vediamo più tardi ragazzi mi preparo perché sono le due e mezza quasi e dovrebbe essere a momenti che il ragazzo di mia sorella arrivi arriva insomma sta qua vabbè c'ho un'ansia addosso e vabbè ci vediamo dopo allora ragazzi sono tornato da poco nel senso che alle 6 e 20 ero a bagnoli quindi sono sceso di nuovo e sono andato in chiesa per la missa c'ho la batteria scarica quindi vado di corsa allora il medico ha svuotato il cane con una facilità estrema questa volta anche perché ha fatto di meno in breve ha detto di aspettare anche la settimana prossima per vedere il picco della dei feromoni che avveria dovrebbe avvenire il 28 comunque sia tra martedì e venerdì io devo comunque andare di nuovo per farlo svuotare queste altre due volte significa che poi o lunedì o martedì di inizio aprile codino deve essere operato di nuovo mi ha spiegato anche che tipo di operazione sarà in pratica fate conto di dovervi tirare su una manica quando la manica tirata su straborda perché c'è il di più quel di più calatevelo di nuovo sull'avambraccio coprendo parte della manica che avete già tirato su quindi in pratica vuole spingere tutto quello che è l'intestino collassato più esterno all'interno non so se se ci riuscirà perché ovviamente la condizione dell'intestino di codino è quella che è però io lo spero perché se non ci riesce non c'è più niente da fare non intendo che ce lo riportiamo a casa così che non ce lo portiamo più comunque dio vede provvede io ora vi lascio perché stasera a cena vengono mia sorella con il ragazzo e sono alquanto stanco per cui è il caso che mi vado a lavare perché sto veramente a pezzi ho ancora dolore alla spalla mi fa ancora male il piede quindi un bel quadretto io vi ringrazio per avermi accompagnato oggi ringrazio coloro che mi hanno anche se forse non seguono questo vlog accompagnato nelle due dirette nella diretta di oggi perché la seconda era nulla vuota ci vediamo prossimamente ricordatevi che oggi è uscito il video di recenso nuovo quindi lo trovate qui alla fine di questo video anzi per voi è ieri e quindi organizzerò nuove dirette mi raccomando non perdetevele un modo come un altro per comunicare più velocemente superi scopo anche creato il gruppo hashtag recenziani quindi se volete mi trovate lì ci vediamo domani che sarà un'altra giornata molto piena buonanotte lunga vita e prosperità iscrivetevi al recenso e non avevo mai stata voglia di fare oggi ma sto un po' di più piccolino domani e quindi mi portarei a parte con il lavoro quando si sente che se vuoi dare qualcosa non è una decisione di non rispisa o altro io mi trovo che ho già fatto qualche cosa ho messo la maglia non è un po' di più piccolino non è un po' di più piccolino